Com'è il lavoro? Va bene? Fatto bene? Sei contento? Sì. Ok. Sì, il mio c'è un channel. Ah, ce l'hai tu? Sì, sì. Va bene, te lo mando. Il problema sono i piccioni adesso. A parte io ho detto, Gian Paolo, che la mamma deve mettermi di là. Per piccioni? Sì, una roba che non siede. Non so come fate a metterla, però... Non so come farete a metterla, perché ormai è finita. Sì. L'oggi è sicuro di Barsi. Come si fa? Come farete a metterla, scusami secondo te? No, se decidiamo allora non è un problema. Lo lo li lila Grondaria, sì sì. Ok, ci sono un problema. Non lo quello che vuole è? Sì. Bismillahirrahmanirrahou. Lo. Chi knows, ho chiamo. Io ho chiamo la prima una volta. L'argo chiamo chiamati. L'argo chiamati dicendo. Non c'è? Un giorno. . 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 un'azienda è un'azienda che ci sono qui sì sì questo il giocco il giocco il centro è il gioco qui sono raccato a te lo via peace 2 latti si mi rè piore bai ho dèkho bhaar 90% complete sara opere nico sara l'acqua è un'unico di ruota è un'unico di slide e un'unico di ruota è un'unico di ruota allora come tu sei contento vieni qua che ti faccio video si come è il lavoro? va bene? fatto bene? sei contento? si il mio c'è un channel ah ce l'hai tu si si va bene te lo mando per piccioni? non so come fate a metterla però non so come farete a metterla perché ormai è finita oggi è sicuramente il bar si come si fa? come farete a metterla? scusami secondo te no se decidiamo allora non è un problema lo svitiamo tutto lo portiamo giù allora mettiamo ah quello lì la grondaia si si ah ok con la piccola grondaia smontata si guarda che c'è anche il pluviale ancora da metterla ci vedremo ancora però certo perché c'è il pluviale poi da metterla si sì domani per schiacciare a vendi c'allo bello basta che va fatta una pulita togsto dire che non ci sò che non si c'esse. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Andiamo?